La Calabria ha i suoi ospedali Covid. Il presidente facente funzione dell'Aggiunta regionale Nino Spirli ha infatti firmato oggi l'ordinanza che prevede la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid. Il provvedimento prevede un incremento di 234 posti letto Covid più altri 10 di terapia intensiva. Che nell'area nord per le strutture di Rogliano, Rossano Corigliano e Paola Cetraro sia realizzata una riconversione di numero 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di numero 10 posti letto di terapia intensiva Covid-19 dedicati. Che nell'area sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto Covid-19 dedicati. Che nell'area centro per la struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto prevedendo nei numero 20 Covid-19 dedicati. Disporre la riqualificazione ed adeguamento della struttura Villa Bianca, già sede del Policlinico Universitario nel Comune di Catanzaro, per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati.